Radio Streghetta, l'oroscopo. Benvenuti al servizio di oroscopo offerto dalla Rinascente Tel. Chiama il servizio valore aggiunto 899 48 43 43. Ariete. Attenzione ai giudizi affettati. Rischierete di perdere un affare molto vantaggioso a causa della vostra testardaggine, nel voler decidere preventivamente sulla base delle sensazioni. Ma il provvidenziale intervento da parte di un familiare vi farà riflettere, ma la decisione spetterà comunque a voi. In amore nessun sussulto. Toro. Oggi sentirete la forza sprizzare da tutti i pori e sul lavoro i colleghi non terranno il vostro ritmo e ciò provocherà una lieve maressere che risolverete tutto con un sorriso. In amore un incontro vi porterà in orbita. Gemelli. Giornata di scelte importanti dove verrete messi alla prova da una persona a voi molto vicina. Lasciate la scelta al cuore. In amore cercate di restare coi piedi per terra. Sognare è pericoloso. Cancro. Piccole noie casalinghe. Dovrete rimandare le vostre attività a causa di un imprevisto, di facile ma lenta soluzione. Tensione tra le mura domestiche con chi promette spesso e volentieri senza però mantenere la parola data. In amore vi accorgerete che la differenza è data quasi sempre dai particolari. Leone. Siate concreti. Avete bisogno di tutta la vostra capacità di mediazione e di un bel po' di sangue freddo. Ogni scelta andrà ponderata dando il giusto peso e fatti e persone. La famiglia ricoprirà un ruolo fondamentale nelle decisioni che assumerete. In amore un pensiero fisso vi porterà a viaggiare con la mente. Vergine. Preziosi incontri in ambito lavorativo. Vi ritroverete inaspettivamente un bel mezzo di una discussione con una persona che avete cercato di contattare da già da parecchio tempo senza riuscirci. Il colloquio produrrà gli effetti che stavate aspettando. In amore richiamerete l'attenzione del partner sulle vostre necessità. Bilancia. Tempo di bilanci. Potreste rendervi conto che la collaborazione non ha fruttato per come avreste sperato. Valuterete attentamente se proseguire un rapporto di lavoro che nel frattempo si è trasformato in amicizia o addirittura qualcosa in più profondo. In amore dovrete dividere la passione dalla ragione. Scorpione. Agirete sull'onda delle emozioni. Solamente quando la tensione si sarà allentata sarete in grado di riflettere su ciò che avete fatto. Qualcuno cercherà di approfittare della situazione per screditarvi di fronte a una persona particolarmente influente. In amore farete notevoli passi in avanti verso il vostro obiettivo. Sagittario. Un incontro inatteso che vi farà ritrovare di fronte a qualcuno che non vedevate da un po' di tempo. E che non avreste pensato di vedere e ciò sarà un'occasione per chiacchierare e chiarire eventualmente qualche incomprensione ormai passata. In amore riuscirete a strappare un sorriso alla persona del cuore. Capricorno. Scelta dettata dal cuore. Andete controcorrente diffondendo a causa altrui come se fosse vostra per puro spirito di giustizia. Non pretenderete che vi sta intorno capisca i motivi della vostra crociata. Se andrete in fondo alla faccenda dovrete farlo da soli. In amore leggerete l'ammirazione negli occhi di qualcuno. Acquario. Noie con i mezzi di trasporto. Qualcosa non andrà per il verso giusto e rischierete di essere ostacolati da un veicolo. Dovrete fare affidamento su voi stessi e cercare di non dipendere da nessun altro per evitare brutte sorprese. In amore una serata totale relax farà scordare una giornata bizzarra. Pesci. Piacevoli sorprese in arrivo. Un incontro inaspettato cambierà la vostra giornata e vi regalerà un sorriso e il buon umore. In amore dovrete riconsiderare le vostre convinzioni. Grazie. Grazie. Grazie.